Due signori al mercato, Rina, hai mai provato le calze e i collant? Le ho provate ma mi danno un fastidio, tu? A me mi si bucano sempre nel pollicione Eh va bene, mica si vede Tu dici bene che non si vede, però tutte le volte che scorreggio mi parte la ciabatta